Mezzanotte 32, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Conte a Bruxelles dopo la nascita del nuovo governo, il Premier incontra i vecchi e nuovi vertici dell'Unione che gli riservano ben altra accoglienza rispetto alla sua prima esperienza al governo. Chiede un nuovo patto con l'Europa, più tempo per ridurre il debito e aprire una stagione riformatrice che metta al centro gli investimenti per la crescita. Sul tema immigrazione spinge per la revisione immediata degli accordi di Dublino e per forme temporane di ricollocamento automatico. Patto di stabilità e redistribuzione dei migranti. Nella prima trasferta a Bruxelles del suo nuovo mandato, Giuseppe Conte affronta due temi centrali. Il Premier italiano chiede esplicitamente un nuovo patto con l'Europa che dia più margini all'Italia per crescere, in pratica più tempo per ridurre il debito. E sul tema immigrazione spinge per una revisione immediata degli accordi di Dublino. Non perde tempo Conte all'indomani della fiducia incassata in Senato e della nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo dell'economia porta a Bruxelles quelli che considera i dossier prioritari per l'Italia nei prossimi mesi. Vede i vertici entranti e quelli uscenti. A un colloquio con la Presidente Ursula von der Leyen incontra il Presidente dell'Europarlamento David Sassoli parla di grande disponibilità delle istituzioni europee di consonanza molto importante con la Presidente. Non stiamo dicendo che non vogliamo tenere i conti in ordine, non stiamo dicendo che il nostro obiettivo non è la riduzione del debito, ma lo vogliamo fare attraverso la crescita economica, una crescita ragionata, investimenti produttivi. Sul fronte immigrati è netto il pressing di Conte che incassa una importante sponda da Parigi. Il sistema di Dublino va superato, ripete il Premier, e ci sarebbe grande disponibilità del fronte europeo a trovare subito un accordo temporaneo sulla ripartizione dei migranti. Il tema sarà sul tavolo dell'incontro con Macron il 18 settembre e un mini vertice a 5 Italia, Francia, Germania, Malta e Finlandia con la Commissione europea è in programma per la settimana successiva alla Valletta. La Corte dei Conti ha archiviato il procedimento a carico dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini sul presunto uso in debito dei voli di Stato. Nessun danno era reale, hanno stabilito i giudici della magistratura contabile, secondo i quali l'uso dei velivoli della polizia da parte del titolare del Viminale è comunque da ritenersi improprio. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma per eventuali risvolti penali. Negli Stati Uniti adesso, per la commemorazione dell'11 settembre, Trump mette in guardia i nemici, colpiremo duro chi ci attacca. Queste le parole del presidente americano, che pochi giorni fa aveva cancellato i colloqui riservati che si sarebbero dovuti tenere a Camp David con i talebani. L'egiziano Ayman al-Zawahiri, successore di Bin Laden alla guida di Al-Qaeda, che torna a minacciare l'Occidente e poi l'attacco missilistico fallito all'ambasciata americana in Afghanistan di Kabul. Il diciottesimo anniversario dell'11 settembre è stato segnato da segnali inquietanti e non solo per gli Stati Uniti, con un video comparso in rete. Il leader del fondamentalismo islamico ha esortato i militanti musulmani a colpire in tutto il mondo obiettivi americani, europei, israeliani e anche russi. E mentre New York e le principali città statunitensi si fermavano per il minuto di raccoglimento in ricordo delle quasi 3.000 vittime dei quattro attentati del 2001, nella capitale afghana il compound che ospita la sede diplomatica veniva centrato da un razzo fortunatamente, senza provocare vittime. È il primo attacco, dopo la decisione di Donald Trump, di cancellare i colloqui di pace in corso in risposta alle violenze rivendicate dai talebani. La fine della più lunga guerra americana, scatenata 18 anni fa dagli attentati dell'11 settembre, per ora dunque è rinviata. Intensificheremo la lotta al terrorismo di chi vuole colpirci, ha munito il presidente americano intervenendo alla cerimonia di commemorazione del Pentagono, ma il conflitto in Afghanistan continua comunque a provocare problemi seri alla Casa Bianca, dopo il siluramento del consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, contrario ai colloqui di pace con i talebani. Anche quest'anno il momento più toccante della commemorazione dell'attacco aereo alle Torri Gemelle è stata la lettura, uno ad uno, dei nomi delle vittime nel Sacrario di Ground Zero e per la prima volta è stato reso omaggio anche alla cosiddetta onda lunga delle vittime, coloro che si sono ammalati o sono morti per aver respirato la nuvola tossica delle macerie. La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in appello all'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, nell'ambito del filone milanese riguardante il procedimento per i fondi del Carroccio. Belsito, che è accusato di appropriazione indebita su querela avanzata dal segretario della Lega, Matteo Salvini, era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione con pena sospesa dalla Corte di Appello di Milano il 23 gennaio scorso. Oggi la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Belsito contro la condanna. Ergassolo per omicidio pluriaggravato e stalking, questa la condanna, inflitta nel secondo processo d'appello a Vincenzo Paduano, l'uomo che il 29 maggio di tre anni fa a Roma uccise e diede fuoco all'ex fidanzata 22enne, Sara Di Pietrantonio. Il nuovo processo è stato disposto dalla Cassazione. Una condanna all'ergastolo al termine del processo di appello bis nei confronti di Vincenzo Capuano. La guardia giurata, che a Roma nel maggio del 2016 aggredì la sua fidanzata, Sara Di Pietrantonio, la uccise e diede il suo corpo alle fiamme. Una sentenza che fa giurisprudenza perché il processo di secondo grado è stato ripetuto per volere della Cassazione. La Suprema Corte aveva ritenuto necessario valutare in maniera autonoma il reato di stalking rispetto a quello più grave di omicidio pluriaggravato. Un orientamento condiviso dalla Corte di Assise e d'Appello di Roma e che ha influito nella formulazione della pena scaturita dalla nuova condanna. Carcere a vita rispetto ai 30 anni di reclusione stabiliti dalla precedente sentenza. Sulla base della valutazione che il reato di stalking non deve essere assorbito da quello più grave di omicidio. Il verdetto aiuterà tutte le donne che si trovano nella situazione di stalking psicologico, commentano i legali della famiglia costituita siccome parte civile. Per la prima volta si riconosce un reato di violenza invisibile. Nessuno riporterà in vita mia figlia, nemmeno 10 ergastoli, ha detto la madre della ragazza. Questo processo incoraggerà le vittime a denunciare. Paduano, mentre era di turno, lasciò il servizio arrivando sotto casa del ragazzo che la vittima frequentava in quel periodo. Aspettò che la giovane lo riportasse a casa, iniziò a seguirla. Spero no, l'auto dell'ex costringendola a fermarsi. Una volta bloccata in strada, la tramortì, la uccise dando poi alle fiamme il corpo all'interno dell'auto. L'uomo confessò il delitto ammettendo di aver agito per gelosia. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.